La solita polemica sulla trasparenza, oggi Decorato ha parlato delle sue quote, delle sue investimenti per quanto riguarda la Romania e ha sostenuto che non c'erano al pari della casa in Svizzera. Non è difficile da capire, chi ha fatto, chi mi ha fatto questa dichiarazione che ho firmato ha dimenticato quel quadro, dopodiché credo che sia veramente impossibile, la verità è talmente chiara e sta lì sotto gli occhi, io non sono così inelegante di dare la colpa a qualche mio collaboratore che l'ha preparata, quindi mi piglio la colpa io, se uno vuole crederci, ci crede, se no, però la dimostrazione è che io le tasse le pago tutti, non so se tutti possono dire la stessa cosa e a maggior tutela e maggior trasparenza, oggi pubblicherò, adesso appena torno in ufficio e posso dedicare del tempo, pubblicherò le dichiarazioni degli ultimi 5 anni. Sì, anche perché quando uno firma qualcosa dovrebbe anche controllare quello che firma. Ma io non è che non ho messo l'errore, Crescenta, io ho messo l'errore di non aver controllato, dopodiché, per l'amore del cielo, sono sottoposto al giudizio di chi mi voterà. Grazie. Crescenta, ma se lei va in banca per che le venga concesso un mutuo, le chiedono la dichiarazione dei redditi, porta l'ultima o la penultima? No, ho messo la penultima, oggi ho detto non faccia polemiche inutili, oggi li metto tutti, ho messo la penultima perché era la penultima a cui si riferiva il quadro, non è inutile che facciate polemiche, abbiate pazienza fino a sera, ne metto 5, poi chiedete tutti gli altri candidati.